Sì, avevano visto bene. A mezzogiorno il Lord c'era ancora. Era una giornata piovosa e una nebbia sottile si stendeva sull'acqua. A brevi intervalli violenti, piovaschi, si rovesciavano martellanti attraverso la foschia e si abbattevano sull'acqua sfrigolando come se il mare fosse una piastra rovente. Avevamo passato l'intera mattinata in barca, nella pioggia e nella nebbia. Dovevamo essere circa in mezzo allo stretto. A tratti ci arrivava un profumo di bosco bagnato e di foglie bruciate, che si mescolava all'odore freddo e umido del mare e della nebbia. Non so se il Lord se ne accorgesse. Era rimasto tutto il tempo seduto sul banco immobile, a guardarsi intorno con occhi pallidi e stanchi. Non che ci fosse un accidente da vedere, ma lo stesso quegli occhi non smettevano di guardarsi in giro. Sapevo bene che non sarebbe servito a niente parlare. Così non mi restava che continuare a tenere ferma la barca, nella debole corrente che attraversava lo stretto. Erano almeno due ore che ce ne stavamo lì immobili, in quella grotta di nebbia, e l'umidità brillava in grosse gocce luccicanti sul mantello nero del Lord. Poiché sapevo di poterlo fare senza rischiare di essere scoperto, mi misi a fissare il suo volto, come se fosse una fotografia. Linea per linea ne incidevo i tratti nella memoria, le rughe della fronte, gli zigomi, le grinze intorno al naso, e quelle che si diramavano dagli angoli della bocca. Era un volto allungato e stretto, trasparente come una mela astracan, solcato da aristocratiche rughe sottili, che avevano da tempo perso ogni significato. La fine rete di grinze intorno alla bocca era come un cimitero di vecchi sorrisi. Non l'avevo mai visto sorridere, e aveva sulla fronte le rughe che rivelano in genere frequenti e violenti attacchi di ira, ma io non l'avevo mai visto dar segno della benché minima emozione. Solo una volta, ma lasciamo perdere. Ma in realtà non era affatto andata così. Quello che era successo era talmente balordo e anormale, che non era davvero il caso di mettersi lì a raccontarlo. O non mi avrebbero creduto e mi sarei fatto senza nessun bisogno la fama di bugiardo. Oppure, se mi avessero creduto, sarei passato per un tipo strano, cui capitano storie che un altro neppure si sognerebbe. La gente è fatta così, da queste parti. Con un leggero gemito, il motoscafo sfregò la sua fiancata contro la nostra. Quando alzai lo sguardo per cercare di scorgere finalmente il pilota, vidi dei capelli nell'angolo fra il parabrezza e il parabordo. Una fronte emersa lentamente dal bordo, seguita subito dopo da un volto pallido e spaventato. Era un ragazzo della mia età, forse un poco più giovane. Rimanemmo immobili a guardarci con un'espressione fissa e diffidente, mentre il motoscafo ci passava lentamente accanto, come se entrambi dubitassimo dell'esistenza dell'altro. Improvvisamente la nostra barca oscillò e io mi precipitai dalla parte opposta per ristabilire l'equilibrio. Era il lord che si era alzato in piedi e si era aggrappato al bordo del motoscafo. «Ello!» gridò amabilmente al ragazzo. Gridò anche se tra loro non c'era più di un metro di distanza. Il ragazzo sgranò gli occhi. «Dove state andando?» gridò di nuovo il lord con la sua voce esile e logora. Il ragazzo fece il nome di un arcipelago più a sud, forse a una giornata di navigazione con una barca veloce come la sua. Le sue mani stringevano saldamente il parapetto, quasi avesse paura di venire derubato del suo motoscafo. In quel momento abbassò lo sguardo verso di me e sembrò prendere coraggio alla vista della nostra barca a remi così mal ridotta. Non sembrò più tanto spaventato e a poco a poco il colorito gli tornò sulle guance. Allora il lord sussurrò «Che acqua c'è laggiù?» Il ragazzo rispose con una smorfia di impazienza, ma non senza un tono di considerazione nella voce. «Acqua?» «La solita acqua di mare, per quel che ne so, quella che piace alle aringhe». «Volevo dire, di che colore?» «Già, di che colore?» «Quella domanda la conoscevo». «La conoscevo perché era stata fatta anche a me una volta, all'inizio dell'estate, dopo una serata passata in barca a pescare vicino al molo. Un uomo passeggiava avanti e indietro nel capuscolo, poi era rimasto immobile per lunghi istanti sul bordo dell'imbarcadero a guardare l'acqua. Ma prima che la sera finisse, era seduto sul banco della mia barca e io remavo per lui attraverso lo stretto in direzione della nostra isola. Il ragazzo tirò fuori la pipa e la svuotò sopra la mia testa. Stava prendendo tempo per trovare una risposta. «Beh», disse alla fine, «non è tutta uguale, è verde e poi i piedi del lord abbandonarono la mia barca, anzi ancora peggio, ancora più deprimente, usò la mia barca come trampolino per scavalcare il parapetto del motoscafo». E quando Ekman se ne accorse, diventò bianco come uno straccio. Indipendentemente dalla sua volontà, la sua mano scivolò nella tasca e ficcò la scacchiera più in fondo possibile. Per me fu ancora peggio, io non avevo niente da poter nascondere, non avevo nessun riparo, non avevo nemmeno il conforto di una scacchiera per poter consolare la mia mano. Mi sentì diventare rosso e soffocare di caldo. Mi prese come una smagna, un senso di colpa, al quale non potevo porre rimedio. Ero tutto sudato e la campana non suonava mai. Aspettavo con ansia una parola da lui, o almeno uno sguardo, ma niente. E quando finalmente suonò la campana, avrei voluto che non fosse mai suonata. Sentivo tutti e due sentivamo che non potevamo lasciare che finisse così. Lind non poteva ignorarci a quel modo, e invece se ne era andato. E il giorno svanì in una fonte bruciante di vergogna e di rimpianto. Il senso di colpa continuò a crescere. Più passavano le ore, più Ekman si convinceva che Lind doveva aver visto la scacchiera sporgere dalla tasca. Io non facevo che ripetergli che era impossibile, ma non bastava a consolarlo. In realtà non c'era nessuna consolazione possibile. Eravamo già nel corridoio, e ci avviavamo verso casa senza averne trovata una, quanto improvvisamente lo vedemmo da lontano venire verso di noi. Non ci aveva ancora visto. Ci disponemmo uno per parte, per impedirgli di tirare dritto. Alla fine eravamo così vicini che non poteva non vederci, ma lo stesso non rallentò. Con prudenza mi staccai dalla parete. Era come salire sulla massicciata della ferrovia e cercare di fermare un treno unicamente col proprio corpo. Grazie. 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 Grazie.